In compagnia di Alessio Ciampicali, IT Manager di Tua, ciao Alessio, ben trovato qua al Netcom. Come la tua azienda sta affrontando questo cambiamento digitale, sempre più presente all'interno delle aziende? Che cosa avete fatto e quali sono le vostre prospettive future, quindi i vostri nuovi obiettivi? Innanzitutto buonasera a tutti, diciamo che la nostra azienda sta cavalcando come un po' tutte le aziende in questo momento digitale, quindi prima di tutto stiamo analizzando i dati che ci provengono dalle nostre piattaforme digita e sulla base di questa analisi mettiamo in campo quelle che sono le strategie migliori per poter raggiungere gli obiettivi nel medio e nel lungo termine. Diciamo che è un anno pieno di cambiamenti perché adesso stanno venendo fuori nuove tecnologie, soprattutto stiamo parlando dell'intelligenza artificiale, vedremo se e come portarla a bordo per la nostra realtà e diciamo che anche questo evento comunque dà molti spunti particolari perché ti permette di vedere da vicino, essere in contatto con persone che magari hanno i tuoi stessi problemi e hanno affrontato magari prima di te i stessi progetti, quindi diciamo qualche spunto da prendere c'è sicuramente.